Giorno Nannini, un gioco per te. Io dico un nome e tu spieghi come e perché ha a che fare con la tua vita. Panforte. Dolce. Di Siena. Non lo so, ah di Siena, sì. Nannini. Buono, buono, compratelo subito. Connie Plank. Produttore, amico, consigliere, segreto. Annie Lennox. Annie Lennox, amica e musicista. Flamenco. Flamenco, passione. Michelangelo Antonioni. Brivido. Fotoromanzo. Un brodo di giugiole. Cosa canti oggi a Polkorn? Fotoromanzo. Se la sera non esci, ti prepari un bagnino mentre guardi la tv. Anche tu. Ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Anche tu. Ti telefono o no, ti telefono o no, fai morale in cantina. Mi telefono o no, mi telefono o no, chissà chi vincerà. Poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità. Mi telefono o no, mi telefono o no, mi telefono o no, io non cedo per prima. Mi telefono o no, mi telefono o no, chissà chi vincerà. Questo amore è una camera a casa, è un palazzo che brucia in città. Questo amore è una lama sottile, è una scena all'allentatore. Questo amore è una bomba all'hotel, questo amore è una finta a sorridere. È una fiamma che esplode nel cielo, questo amore è un gelato al vero. Io non riesco a dirlo, è che ti vorrei soltanto un po' di più. Mi telefono o no, mi telefono o no, mi telefono o no, io non cedo per prima. Mi telefono o no, mi telefono o no, chissà chi vincerà. Questo amore è una camera a casa, è un palazzo che brucia in città. Questo amore è una bomba all'hotel, questo amore è una finta a sorridere. è una fiamma che esplode nel cielo, questo amore è un gelato al vero.